Guardate questa scritta. L'abbiamo trovata quando siamo tornati dal ristorante, dalla trattoria, dopo che avevamo fatto una riunione. In questa riunione era stato detto che la guida fisica di questa nuova medianità che si chiama Golden Age era un'entità che si chiamava Imperator. Questo è un altro, tra i tanti, fenomeni di scrittura diretta. Questa è la sera del 18 agosto del 2004. L'8 agosto 2004 si è avuta qui a casa mia la quinta riunione del canale che si fa chiamare Golden Age. Dopo la riunione siamo andati in trattoria. Quando siamo tornati abbiamo avuto una serie di fenomeni fisici che abbiamo chiamato per adesso poltergeist, tra cui questo. C'è una molletta verde, si vede, che è stata messa così stranamente su un abbajur, sul cappello di un abbajur. La molletta probabilmente è stata presa da questo stenditoio e stava su questo lenzuolo che adesso è così arruffato. Prima lo stenditoio stava nel terrazzo, poi siccome tirava vento l'ho messo nel salotto ed è accaduto questo. Quindi il tragitto che la molletta avrebbe potuto fare sarebbe questo qui, dallo stenditoio, messa così stranamente sul cappello dell'abbajur. Grazie. 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 Grazie.